Buongiorno signor Ministro Lupi, andiamo? Andiamo, andiamo qui, come sempre corriamo. Grazie di essere salito sul mio taxi, volevo farle delle domande. Innanzitutto, non le sembra arrivato il momento di darvi una mossa? Quello che vedo andando in giro a incontrare un po' le persone è una cosa sola, qui tutti voi mi dite che bisogna passare dalle parole ai fatti, non ce la facciamo più sia a Milano che in Italia o cerchiamo un po' di darci tutti da fare per cambiare questo paese, cambiarlo radicalmente oppure non ne usciamo più? Certo, certo. Stiamo cercando di fare questo e un po' di entusiasmo si sta ritrovando? Beh, questa è una buona cosa. Gli italiani che cosa hanno? C'hanno il cuore, la testa, il cervello, la capacità, la voglia di sacrificio, cioè la nostra risorsa siamo noi, ognuno iniziando a fare la sua parte, ognuno giocando la sua partita e le dico anche un'altra cosa, forse sa che la storia da cui provengo, vent'anni di centrodestra, di Forza Italia, di Popolo della Libertà, noi dobbiamo iniziare a capire e a comprendere anche nel centrodestra, anche nell'area dei moderati, le cose buone che abbiamo fatto e dove abbiamo sbagliato, dobbiamo smetterla di guardare l'altro sempre come il nemico, dobbiamo dire che tutti vogliamo costruire un nuovo paese, lo dobbiamo fare adesso, capendo che non si può sempre scaricare la colpa sugli altri.